Salve gente io sono Ripruck, su cui vi ho un nuovo video di HG, siamo qui sui server... ...la messaggia come sempre, niente, adesso andiamo a trovare un server e fare... ...ah, beh, capito, ok. Benissimo, allora, scegliamo uno server, non lo sooo... Siamo qui, siamo io, la mia skin, la mia fantastica, la mia skin, bellissima, ok, e non so, il Militar Antonio, che è praticamente un militare Antonio, con la barbetta, tu che sei invece, uh che carina questa skin, è molto coccolosa, tu sei un coccodrillo, e tu un ninja della morte, mio dio che figata, fermati, fermati da me, vieni qua, avvicinati puttanello, avvicinati, fermati, 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 ehi, ti vuoi fermare, madonna mia, che palle, tu, che corri, non correre, ti supero, eh, ti supero, eh, ti supero, eh, ti taglio la strada, ti taglio la strada, ti taglio la strada, ti taglio la strada, fermati, guardami, oh, finalmente, ho capito che fai schifo, ehi, come cazzo ha fatto, alt più F4, puntos gratis, puntos gratis, ma chi vuoi che ti creda, magari ti bannano perché hai spammato troppo, c'è, godo come un crispalello, uh, bello, questo cos'è, tu sei un militare, ah, no, se c'è, c'ho quello barbetto, so, vicino a me, eh, attun, speaking creeper, do the wish club, I like chicken, Sono sicuro che non riuscirò ad arrivarci perché sono un pro cacca, però dai, però va bene, ci potremmo riuscire, ai, 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 es, maripa, tocco lo chino con il benetto, che mangia li cacchi Nooo, volevo accendere la faccia a quello, però non ce l'ho fatta, ok, scappiamo, eh, tu sei un uomo nudo, va bene, ok, ok, oddio, qui c'è una cesta sicuro, oltre a mille trappole sicuramente, allora, qui, non vedo nulla, ok, ho paura di loro, ho paura di loro, Come hai fatto a salire qua, zoccola, zoccola, zoccole! Ciao!